Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Nicola Lorusso, coordinatore del gruppo dei sistemi di visione di Ane Automazione. Buongiorno Nicola. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Con Nicola Lorusso vogliamo fare il punto sul prossimo Italian Machine Vision Forum 2024, l'evento che si terrà il 17 di ottobre presso lo spazio FASE di Alzano Lombardo. Quindi l'occasione è altrettanto ghiotta per chiederle subito qualche anticipazione, qualche novità, qualche tratto saliente che ci possiamo aspettare da questa edizione. Perfetto, ok. Buongiorno di nuovo e grazie di nuovo per l'invito. Sì, parliamo quest'anno della terza edizione di questo forum itinerante che quest'anno verrà svolto presso lo spazio FASE di Alzano Lombardo, promosso da Ania Automazioni e organizzato da Messe Frankfurt. Quest'anno, dopo i saluti di benvenuto, avremo il piacere di ospitare la presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Recuperati, e dopo ascolteremo uno speech dell'associazione tedesca VDMA sullo sviluppo dei sistemi di visione, quindi di questo settore, in Europa. Per chi non la conoscesse, le VDMA è un'associazione tedesca che raggruppa circa 3.600 aziende, tedesche e non, attive nell'ingegneria meccanica e nell'impiantistica. Quindi è importante sapere anche quello che succede al di fuori dei nostri confini. Ci sarà quindi una tavola rotonda dal titolo Evoluzione dei Sistemi di Visione nella Digital Transformation alla quale parteciperanno sia aziende che oggi già implementano questo tipo di tecnologie, sia settori che si occupano di ricerca e sviluppo del settore. In particolare avremo Barilla, il gruppo Salvagnini, poi avremo un ricercatore dell'Istituto di Tecnologia di Genova e il Politecnico di Milano. I temi principali che andremo ad affrontare durante questa edizione sono competitività e sostenibilità, offrendo comunque una panoramica del settore nell'ambito dell'industria digitale, ovvero la fabbrica del futuro. Quali sono i trend che hanno particolarmente distinto i sistemi di visione nel 2024? Ne menziono tre, per me, molto importanti. Il primo riguarda le tecniche di apprendimento di lead learning che sono sempre più raffinate e quindi permettono di utilizzare, di sviluppare sistemi sempre più complessi in ambito industriale. La seconda riguarda la compressione dei dati in un contesto, in un mondo in cui i dati sono diventati un bene prezioso così come tanto altro, tanti altri, la possibilità di lavorare su di loro e di rendere più veloce lo scambio di dati diventa sempre più importante e fondamentale. La terza ed ultima, ma non per questo meno importante, è l'utilizzo delle lenti liquide che permettono, grazie al loro inserimento, una facilità di messa a fuoco dell'ottica. Per parlare invece delle evoluzioni che hanno portato i sistemi di visione nel settore industriale, quali sono, secondo lei, queste evoluzioni e come hanno inciso i sistemi di visione nell'ambito industriale moderno? L'ambito industriale, con l'avvento di concetti ma di realtà applicativi come l'industria 4.0, la 5.0, l'azienda ha portato cambiamenti significativi nel modo in cui vengono gestiti i dati e vengono presenti decisioni strategiche con l'obiettivo di migliorare la produttività e la qualità dei prodotti. In questo contesto, i sistemi di visione rappresentano una tecnologia abilitante perché consentono di acquisire una mola di date e quindi ottimizzare i processi produttivi. Non solo, facilitano anche l'interazione uomo-macchina, abilitano nuove opportunità di lavoro e aumentano la produttività e l'efficienza dell'azienda che le utilizza. Grazie mille, non mi resta appunto che ringraziarla per il tempo che ci ha dedicato, per le anticipazioni che ci ha dato. non vediamo l'ora che arrivi il 17 di ottobre per incontrare lei e altre aziende del settore che saranno presenti all'Italia Machine Vision Forum 2024 ad Alzano Lombardo, presso lo Spazio Fase e quindi non mi resta in questo momento altro che ringraziarla e augurarle una buona continuazione di giornata. Grazie a voi per l'opportunità e spero di vedere numerosi partecipanti al forum del 17 ottobre. Grazie ancora, buona giornata.